Alcuni di voi avranno sicuramente notato questo frigorifero nelle mie live o in qualche mio video e in tantissimi di voi mi avete chiesto o come avrà detto qualcuno E' arrivato il momento di rispondere Beh raga, succederebbero cose davvero spiacevoli se all'improvviso decidessi di aprire questo freezer dal momento che all'interno ci troveremo Che c'è? Ma però sto facendo il video Grazie